Il suo obiettivo naturalmente è quello di vincere Miss Italia. Michela Albiani di Arezzo in coronata a Casciana Miss Toscana sogna il titolo di più bella d'Italia che per la prima volta verrà consegnato a Montecatini Terme. Vediamo il servizio di Paola Nappi. Occhi azzurri che più azzurri non si può e tanta grinta. Miss Toscana 2011, Michela Albiani, 20 anni, studentessa. È di Arezzo ma non si sente l'accento, studia edizione e vuole diventare conduttrice televisiva. Il suo obiettivo è conquistare il titolo di Miss Italia e riportarla in Toscana dove manca da troppo tempo. Ma intanto dedica questa vittoria alla mamma Margherita Casalinga e a Babbo Claudio Meccanico che l'hanno sostenuta e hanno creduto in lei. Sono sempre stati dietro, non ho sempre seguito, ho incoraggiato, ho avuto dei momenti un po' brutti e alla fine invece sono riuscita a riprendere forma, a ricadere in me stessa, a dare il massimo. 27 bellissime per un grande evento Miss Toscana per il trentesimo anno consecutivo a Casciana Terme. Trentesimo anno di Miss Toscana qua a Casciana. Il mio no, meno, sono meno, sono solo 25, questo è il mio venticinquesimo. Credo siano le nozze d'argento, mi dicono che quindi festeggio le nozze d'argento con Miss Toscana a Casciana Terme. In una piazza strepitosa, una girandola di ospiti VIP e personaggi del mondo dello spettacolo. Madrina, la Miss Italia ancora in carica, Francesca Testa Secca, presidente di giuria alla fascinosissima Catherine Spack, ormai di casa in Toscana. I miei migliori amici sono toscani e questo mi è venuto in mente oggi ripensando ai contatti, ai rapporti che ho con queste colline, con queste atmosfere. E' una cosa importante questo perché l'amicizia per me è molto forte.